Il comune di San Benedetto del Tronto è stato di sciocco per la scomparsa di Stefania Camela, 47 anni, una figura molto conosciuta nella città. Lavorava nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo. Stefania si trovava a Milano per un intervento chirurgico di routine e inizialmente sembrava che tutto procedesse per il meglio. Tuttavia poco dopo aver lasciato la città per tornare sulla riviera con il suo compagno ha improvvisamente accusato un malore. Rientrata in fretta in ospedale purtroppo è venuto il decesso. Stefania lascia la madre, il padre e il compagno. La morte avvenuta proprio a Milano pochi giorni dopo un semplice intervento chirurgico presenta ancora cause da chiarire. Grazie a tutti.